E' un grido di dolore quello di Vincenzo Mattina, il padre di Mirko morto il 27 dicembre all'ospedale Sant'Elia, un giovane conosciuto e amato in città. Dopo alcuni giorni di silenzio il padre in cinque minuti fa uno straziante racconto della vicenda accaduta al figlio, da quando è arrivato al pronto soccorso fino all'ultimo messaggio ricevuto. Il signor Mattina ha presentato un esposto alla procura della Repubblica in cui chiede verità e giustizia per Mirko il perché di tutte quelle ore ad aspettare al pronto soccorso e il fatto che non si sia più ritrovato il suo giubbotto con il denaro e i documenti. Io nonostante il dolore ho deciso di fare questo video. Intanto vi ringrazio tantissima gente per la vicinanza, l'affetto e la solidarietà mostratami per la perdita del mio caro e amato Mirko. Ma è giunto il momento di spiegarvi quello che è successo. Sono ricerca di chiarezza, giustizia e verità. Mirko si sente male il 26 dicembre, accusa dei semplici dolori addominali, tant'è che ci rechiamo al pronto soccorso e gli viene assegnato un codice verde. Effettua il primo tampone, negativo. Gli viene effettuata un'attacca cui io ho assistito e viene riscontata una pancreatite. Dopodiché io mi allontano, non posso più seguirlo nell'iter medico. Mi manda un messaggio e mi dice, papà mi hanno fatto un secondo tampone, sono risultato positivo. Da quel momento lo hanno trasferito al reparto Copiti. E proprio da quel momento ho perso i contatti con mio figlio, tranne qualche chiamata, qualche messaggio. Di cui ultimo, un messaggio che mi riecheggia nella mente, mi tormenta giorno e notte. Un messaggio in cui scrive, papà è una vergogna, c'è un solo infermiere, è dalle 12 che chiede aiuto e nessuno viene. era nel 14.02, significa due ore, due ore di invocare aiuto e nessuno si prodigliava ad andarci. Io con questo video non voglio accusare nessuno, non accuso il medico, non accuso il personale sanitario, perché forse se oggi regge il sistema sanitario è grazie alla binegazione di pochi, medici che lavorano per sedici ore di fila, inconcepibile un pronto soccorso, un solo dottore e due infermieri. Ripetisco, non accuso nessuno, ma voglio chiarezza, perità e giustizia se c'è stata disorganizzazione, imperizia da parte della struttura. Vi comunico che ho presentato un dettaglio disposto alla Procura della Repubblica, era doveroso, era doveroso per Mirko e doveroso per tutti quelli che malauguratamente si dovrebbero recare in questo maledetto ospedale. La proposta del sindaco Gambino dopo aver ascoltato il video quella di costituire un'associazione a nome di Mirko per combattere contro gli errori del sistema sanitario. Infatti, mattina, nel video, a conclusione, fa una dura reprimenda nei confronti del sistema sanitario più orientato alla quantità come le aziende, non alla qualità. la qualità è un'associazione sanitario